Ciao e benvenuti nella nostra vita Allora, sotto richiesta di Mattia vogliamo fare un video su tutte le nostre tart e bottine della Yankee Candle Allora, io ho una pagina dedicata della mia agenda in cui segno praticamente tutte le tart che acquisto e sotto se mi sono piaciute o se non mi sono piaciute così so se ricomprarle o meno Ho preso la Sugar at Apple che è buonissima però è molto invernale Molto invernale? Sì La Vanilla Cupcake che per me è troppo dolce quindi non acquisterò più Perché? Troppo dolce E adesso andremo in un negozio e te la faccio usare Poi c'è la Vanilla Rhyme che è molto estiva e mi è piaciuta La Sparkling Lemon molto estiva e mi è piaciuta E la Sicilian Lemon che è sempre molto estiva e mi è piaciuta Tutte e tre ovviamente agrumate e sanno di limone L'ultima che ho preso che ho dentro che era una Votive è la Water Garden E è una fiorata molto buona quindi anche questa se mi capita la ricomprerò Adesso vi facciamo vedere tutta la nostra collezione Allora partiamo Questa che abbiamo una delle ultime che abbiamo comprato devi metterla tipo qui Dove? Qui vi farò vedere così È bianca e si chiama Angel Wing e abbiamo detto prima che è molto che è talcata Poi abbiamo la Votive che abbiamo detto prima la Garden Picnic Falla vedere qui Che è una fiorata Poi abbiamo questa vecchia la Wedding Day che sa di rose Poi avevamo a Child Wish che è verde E' di nida Sì E' così A Child Wish E' buona però sa un po' di misto non è che mi è piaciuta Ma lui non è piaciuta Nella mia rivista poi c'è la metà la appoggiamo qua va bene E questa la buttiamo via Questa lo possiamo buttare via Tanto facciamo un po' di pulizie Facciamo un gioco di Nicholas a posto Poi questa non ha nome Era dentro ha una bomboniera Sa di fiori? Buona Quindi era quella di un fiori Di un fiori Sì Chiuso di vedere Poi questa Autumn Night Che è blu E' molto intensa Ha dentro del paciuli Paciuli Autumn Night Poi abbiamo A Calm and Quiet Place Che è quella che abbiamo fatto vedere prima Che è una fiorata Questa è sempre di una bomboniera E ha dentro anche il fiore proprio Quindi non è una Yankee E' una fiorata Poi abbiamo Questa qua che è già cominciata Una Honey Clementine Sempre una grumata Clementine Sempre una grumata Buona pasta di pece Molto Poi Non so perché non ho sentito qualcosa qua Era troppo? Questa qua la Midnight Jasmine Che è quella che abbiamo fatto vedere prima Che sa di gelsomino Di somino Questa che è finita Che era una Mandarin Cranberry Che è questa Che ha ancora qualche pezzetto da finire Sempre una fruttata E' una grumata Però un po' più dolce Buona Questa la mettiamo nella Nell'agenda E poi avevamo E questo dove lo mettiamo Questo pezzetto? La Black Coconut Che è nera Questa era Molto invernale E ti piace? No Non la ricomprerò più Perché era molto Sapeva molto di legno Era molto legnosa Beh Poi abbiamo questo Che si chiama Yankee Candle Quello è il nome Questo qua è il nome del Sea Hair Che come Di che cosa sa? Che buona? È molto fresca Ma c'è un buco? Ah Sto cercando un buco Perché Con la casa non si chiama E' molto buona Bene Poi abbiamo Summer Peach Che sa di pesca Che sa di pesca Questa devi mettere Alla tua rivista Perché è buona? È vero che è buona Molto Buona Molto estiva Dove metto questo? Mettila lì Poi le rimettiamo dentro Poi abbiamo La Cherry Blossom Che sa di fiori Di ciliegio Però buco Sì Poi abbiamo La Pink Sand Che sa di mare Cosa? Prova Dov'è? 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 Che c'è? C'è? Alla sentia Non c'è nessun sapore E poi Per ultima Abbiamo La Snow in Love Che è una talcata Un'altra talcata Che sa di borotalco Qua abbiamo Altre due Che abbiamo finito La Christmas Cookie Che sapeva proprio Di biscotti Non si sente più adesso Come te l'ha stata L'ultima volta Come te l'ha stata L'ultima volta Buona Quindi questa La metti nella tua rivista E poi la Baby Powder Che sapeva proprio Di bambino piccolo Di borotalco E come ti sembrava Buona o schifosa? Molto buona Perché la questa Di rimettere assolutamente Nel tuo rivista Ok va bene E la baby powder Senti Che sa di borotalco Ok Questa è la nostra Collezione di tart Quindi per un po' Ne abbiamo Cosa dici? Sì E questo è Un po' sporco Perché ha tutti i pezzi Di tart Ma sono degli oli essenziali Intanto Cominciamo a mettere Questi Nel tuo rivista Possiamo metterli Poi quando abbiamo Finito il video O li mettiamo nel video Poi diventa un po' lungo E poi si può metterli Andiamo a dipista Adesso salutiamo E poi ci divento Ciao Ciao Grazie mille E al prossimo Grazie di essere venuti E al prossimo video Al prossimo video Guardate Passone Ciao a tutti